Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Montelupo e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti in direzione mare tra La Strassigna e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti. Code a tratti in direzione Firenze tra La Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare ci sono rallentamenti tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie a tutti.